Ingetta di medaglie per l'associazione sportiva dilettantistica Giola Scacchi al 29esimo campionato regionale siciliano che si è svolto a Marsala. Ancora una prestazione coi fiocchi per la squadra giolese. In gara più di 200 giovani e bambini provenienti da ogni parte dell'isola. Chiara Morello si è laureata campionessa regionale under 14. La vittoria non la dedico a una particolare persona, la dedico a tutte le persone che mi sostengono giorno dopo giorno. Sono riuscita a vincere impegnandomi al massimo, studiando le varie teorie degli scacchi. Terzo posto assoluto nella categoria under 10 femminile per Arianna Marazzotta. Ultimamente alle regionali soltanto terzo posto, però sono arrivata seconda e prima. Tutti i bambini potrebbero giocare a scacchi anche se sono molto piccoli. Però ci vuole molta pazienza. Abbastanza. La Gela Scacchi a Marsala ha rappresentato l'intera provincia di Caltanissetta. È un gioco molto bello, dove si possono vincere premi giocando ai tornei. Però ultimamente tu non hai vinto. No, però mi sono divertito comunque giocare. Quando noi giochiamo ovviamente noi siamo molto entusiasti. Voglio citare le frasi di un grande campione, un grande campione del mondo. Dice che il gioco degli scacchi è il gioco più violente del mondo. Vuole dire che uno si immedesima quando gioca a scacchi. Cioè quando noi vingiamo siamo felici, mentre quando perdiamo noi siamo tristi. Perché l'obiettivo del gioco degli scacchi è annientare l'avversario, ma nel massimo è la sportività e la correttezza.